Hikikomori è il termine in lingua giapponese per definire l'isolamento sociale volontario, un fenomeno che solo in Italia colpisce molte migliaia di giovani, ma che è un'emergenza sociale ancora poco conosciuta anche dalle famiglie. La mia esperienza è molto semplice. Ho incominciato con un abbandono della scuola, dove è stato difficile riuscire a rinserirlo, perché la scuola non era minimamente preparata ad accompagnarlo in questo percorso, perché non è fondamentalmente conosciuto come problema. Per cui come famiglia abbiamo dovuto inventarci mille strategie in casa per riuscire a fargli fare dei piccoli lavoretti in maniera che lui si sentisse molta più autostima e da questo ha portato a iniziare poi un percorso anche nell'ambito lavorativo, sempre in un percorso famiglia, terapia e azienda, ad accompagnarlo a crescere. Per sensibilizzare le istituzioni e soprattutto la scuola su questo fenomeno, le associazioni nazionali che si occupano di Ikikomori, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e con il patrocinio della Regione Piemonte e della città metropolitana di Torino, hanno organizzato un convegno che si è tenuto martedì 20 febbraio all'Istituto Avogadro di Torino, rivolto, oltre che alla cittadinanza, ai docenti e agli orientatori delle scuole e delle agenzie formative del Piemonte. Esperti e testimoni hanno affrontato vari temi, partendo dalla descrizione del fenomeno. Dalla sua origine, agli strumenti a disposizione per affrontare l'isolamento sociale volontario, dalla lotta ai pregiudizi al sostegno alle famiglie. L'associazione nasce a partire da un sito, ikikomoritalia.it, che ho fondato dopo i miei studi universitari. Questo sito, piano piano, ha attirato sempre più attenzione da parte di genitori, ragazzi isolati, addetti del mestiere, quindi giornalisti, e oggi è evoluto anche in un'associazione nazionale, appunto, che ha gruppi in tutta Italia. Ikikomori è una parola giapponese, che significa letteralmente stare in disparte, e viene utilizzata per riferirsi a coloro che si isolano dalla società per lunghi periodi di tempo, quindi mesi e anni, soprattutto giovani, quindi giovani tra i 14 e i 25 anni, e ancora quindi la maggior parte è in età scolare, ed è per questo che vogliamo approfondire il tema abbandono scolastico e ikikomori. A scuola si può operare della prevenzione nel momento in cui si identificano dei ragazzi che mostrano timidezza, difficoltà a stare in gruppo con gli altri, stanno in disparte, cercano di non partecipare ai giochi e agli scherzi. In classe, in questi casi, è necessario evitare di puntare riflettori sul ragazzo di qualsiasi tipo, sia in positivo che in negativo, cioè sia evitare le critiche, sia evitare le lodi, in quanto sono attività che provocano la luce sul ragazzo e quindi possono sviluppare un vissuto di vergogna e quindi determinare il ritiro vero e proprio.